È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Il San Paolo prima, l'Olimpico poi. Non ci sono dubbi, è tornata la Super Atalanta, quella capace di stupire tutti nello scorso campionato. I superpoteri li aveva conservati per l'Europa, ma una volta conquistata la qualificazione, da prima del girone, riecco la versione migliore della Dea anche nei confini nazionali. Il dispiacere di fine 2017 contro il Cagliari è stato subito dimenticato grazie al 2-1 che ha eliminato il Napoli dalla Team Cup e dal bis concesso in campionato in casa della Roma, perché non si parli di Atalanta da compie. 1-2 micidiale e vittoria conquistata nonostante l'inferiorità numerica per più di un tempo di gioco. Evertone e Lione in Europa, Napoli e Roma, terza e seconda dello scorso torneo in Italia. Questa Atalanta non fa sconti a nessuno e si prepara al meglio per la seconda parte di stagione. L'obiettivo è sempre lo stesso, continuare a stupire.